ciao a tutti e benvenuti al secondo episodio del flosstube in italiano della dama del lago in questo episodio la whip parade anzi visto che si tratta di un video in italiano la carrellata dei lavori in corso sarà molto breve invece le novità dalla dmc sarà una parte un pochino più corposa o avanzamenti su un solo lavoro che è appunto il lavender box quel kit della dmc che sto ricamando per una cliente mannaggia e riflessi questo è come finirà il kit prevedeva che fosse lavorato su un lino 11 fili invece lo sto ricamando su richiesta della cliente su una tela ida 55 fori bianca ovviamente i filati sono quelli del kit quindi tutti dmc né insomma questo è quello che ho fatto nello scorso video non è tantissimo però appunto come sempre lavoro tra un cliente l'altro e quindi i lavori non avanzano velocissimamente la carrellata dei lavori in corso finisce qui per oggi breve rapido indolore per quanto riguarda invece le novità abbiamo vi presento oggi tutta la nuova linea da bambini della dmc quest'anno è tutta dedicata ai koala tutti i ricamabili che vi presento sono disponibili in tre varianti di colore azzurro rosa e grigio come colore neutro se non sapete se è un bambino una bimba in arrivo partiamo dalle bavalline in due tagli taglie tre mesi questa qua è quella rosa coi può se no c'è anche azzurra con i coalini guardate che carini coalini e questa invece che vi faccio vedere in grigio è la taglia sei mesi marate così si vede bene la differenza questa è questo è il grigio sei mesi col cuoilino se no sempre taglia sei mesi il cuorino stavolta in azzurro ricordatevi che tutti quanti i bavallini si attreschi sei mesi sono disponibili sia nella versione col cuoil sia nella versione con quale come dicevo in rosa azzurro e grigio prossimo oggetto una trussa porta porta tutto voilà eccola qua ve la faccio vedere fuori dalla busta che così si vede un po meglio eccola qua la versione azzurra coi koala col suo bel librettino di schemi in omaggio e qua c'è l'inserto in telaida ricamabile telaida 55 fori bianca gli schemi sono tutti pensati per per stare in queste fasce di aida 55 fori altro oggetto è una cosa che in francia è tipica regalare ai bambini in italia un po meno è il porta libretto sanitario ma perché perché in francia il libretto sanitario a questa dimensione e quindi qui dentro ci sta noi in italia non abbiamo un libretto sanitario fatto così per cui non si può usare come porta tutto e ci si può sicuramente ha dentro un sacco di cose un porta documenti con il suo bel inserto in telaida e i suoi schemini il foglietto con gli schemini è uguale per tutti gli oggetti ovviamente non non è che mettono a seconda del ricamabile schemini diversi ultimo ricamo penultimo ricamabile in realtà l'accappatoio sempre disponibile in rosa azzurro e in grigio con i puoi il quale non l'hanno fatta va però il quale non si può ricamare qua la sua bella fascia in telaida ultimo ricamabile sì perché non si intravede qui a una bavaglina su cui si può ricamare l'iniziale del bimbo è un popozzetto da compagnia un doodoo e se intravedete qua ci sono schemini ricamabili qui sulla bavaglina di questa collezione fanno parte anche altri oggetti tipo un altro doodoo che però non è arrivato e appena arriverà ve lo farò vedere in un prossimo video inoltre farà parte anche un libretto di schemi adesso cambiamo inquadratura e diamo un'occhiata veloce al libretto di schemi ed ecco qua il libretto che accompagna le novità della dmc idee per bambini per bebè qua come sempre in tutti i libretti della dmc è spiegato come separare i fili fare il punto croce o fare il punto scritto qua c'è l'indice qua ecco qua una presentazione di come sono le bavagline la capatoio la trusse il porta il libretto sanitario qua le stesse cose con tutti i vari codici e qui abbiamo un po di alfabeto schemini vari molto tenere proprio da bebè qui invece abbiamo i due dudù quello che è già disponibile negozio quello non ancora il pelucino e il dudù e un kit per un quadretto con il nome per la cameretta qui altri schemini tutti con i koala alfabeti altri altra presentazione di tutti i prodotti con i relativi codici e gli ultimi schemini che passiamo poi anche chi qui ci sono giustamente essendo tema australia e nuova zelanda qua c'è la versione in rosa di tutto quanto con i relativi codici eccolo qua e questo appunto come dicevo è il libretto che accompagna le novità della dmc in realtà il kit che volevo mostrarvi non è arrivato ma è arrivato questo è comunque un kit per un quadretto ricamo classico della dmc a tutto ago fili tessuto stampato vedete i fili lago sarà qua dentro da qualche parte come sempre non c'è la forbice ma come sempre si suppone che la forbice in casa ci sia in fase di montaggio mi sono resa conto che questo video era venuto proprio cortino allora ho deciso di farvi uno uno spoilerino mi sono iscritta all'associazione italiana del punto croce erano anni che girava attorno ai loro stand alle fiere quest'anno deciso mi scrivo e così ho fatto e in autunno parteciperò alla mostra nazionale con questo ricamo che ho comprato lo schema alla fiera le dame del lago evviva la quasi omonimia da claudia ciceri di samples forever questo schema è il l'alfabet basket l'ho ricamato su una tela i da 55 fori stampata della dmc non si vede tanto però è leggermente colorata nei colori dell'albicocca del giallo è molto delicata come come stampa il lo schema prevedeva filati quasi tutti i weeks day works io invece ho usato dei dmc tinta unita perché lavorare con i filati sfumati non mi piace preferisco i tinta unita lo monterò come un cuscino e il retro così a patchwork il motivo che si chiama appunto basket mi sembrava abbastanza adatto vi faccio anche un secondo spoilerino in autunno in negozio ci saranno gli schemi di samples forever se siete arrivati fin qui io vi ringrazio vi invito ad iscrivervi al canale a cercarmi sui social facebook e instagram come la dama del lago del aposto for agua non confondiamoci con con viviana la signora del lago anche se il nome è ispirato proprio a lei e al ciclo arturiano dicevo vi invito a iscrivervi al canale a cliccare sulla campanella per restare aggiornati sulle randomiche pubblicazioni di questo canale e ne approfitto non sapendo se riuscirò a pubblicare un altro video entro la fine del mese per augurarvi buone vacanze il negozio resterà chiuso dal 27 luglio al 5 di settembre in concomitanza con la chiusura della scuola materna di mio figlio quindi sto a casa a fare la mamma c'è sto in campagna a fare la mamma a tempo pieno quindi di nuovo ancora grazie se siete arrivati fin qui e buone vacanze a tutti ci vediamo a settembre con tanti nuovi ricami a